Perché ripetete che dobbiamo essere ciò che siamo? Perché attraverso l'osservazione di voi stessi dovete scoprire la vostra realtà e arrivare un po' alla volta alla concezione di voi stessi, scoprendo le comprensioni che avete acquisito. Infatti la vostra vera realtà personale non risiede al di fuori di ognuno di voi, ma nel profondo del vostro intimo e quindi la prospettiva da cui potete e dovete osservare ciò che vivete è completamente diversa da quella che solitamente tendete ad usare. Grazie a voi chersi internautes, io sono la Petite Fille 3112. Grazie a tutti, oggi vi faccio una video su l'ottomazione di scrittura automatico perché mi sembrava che dopo qualche giorno l'ottomazione comincia a cambiato. Quindi io vi faccio una pagina, non posso fare più, perché ho paura che non passi a passare a livello della video e io lo farò più tardi nella giornata con le guide. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.